La divisione di monomi Prendiamo ad esempio il seguente esercizio Prendiamo ad esempio il seguente esercizio Prendiamo ad esempio il seguente esercizio Ora, la domanda è È divisibile o no questo dividendo per questo divisore? Osserviamo che A qui è elevato alla settima E qui è elevato alla sesta Quindi ok per quanto riguarda A Qui B è elevato alla quarta Che è uguale a B alla quarta qui Quindi anche per quanto riguarda la lettera B È possibile la divisione Lo stesso per la lettera C Quindi possiamo dire che Il nostro primo monomio È divisibile per il secondo Prendiamo in considerazione il seguente esempio numero 2 Allora A alla quinta B alla seconda per C Tutto diviso A alla sesta B C per Y Tutto uguale Vediamo se è divisibile oppure no Vediamo facilmente che non è divisibile Innanzitutto perché Qui nel primo monomio Cioè nel nostro dividendo È presente il numero 5 Per quanto riguarda la potenza Mentre qui abbiamo 6 Quindi non è divisibile Per quanto riguarda la lettera A Lo potrebbe essere sia per la lettera B Che C Ma poi è presente un altro problema Al nostro divisore È presente una lettera Che non è invece presente nel dividendo Quindi possiamo dire Che questo secondo monomio Non è divisibile Per questo secondo monomio Quindi non divisibile Ma come si calcola il quoziente di due monomi divisibili Il risultato Della divisione di due monomi È rappresentato dal monomio Che ha per coefficiente il quoziente dei coefficienti E come parte letterale Il prodotto delle lettere Che figurano nel dividendo Quindi Nel primo monomio Ciascuna con esponente uguale Alla differenza tra l'esponente Che ha la stessa lettera Nel dividendo E quello che ha Nel divisore Allora Vediamo il seguente Primo esempio Supponiamo di effettuare La divisione tra 3 alla terza B al quadrato Diviso 2 A B B al quadrato Per prima cosa Riportiamo questa divisione In forma di frazione Quindi avremo 3 A alla terza B al quadrato Tutto diviso 2 A B Al quadrato Tutto uguale Allora Più diviso più Fa più 3 diviso 2 Tre mezzi Per quanto riguarda la parte letterale Avremo A elevato Alla 3 Meno 1 Quindi 3 Meno 1 Per quanto riguarda B Invece 2 Meno 2 Quindi Tutto uguale Più 3 mezzi A Alla seconda Mentre B Alla zero Farà 1 Vediamo Quest'ulteriore Esempio Allora Un mezzo x Alla terza y al quadrato diviso 2 x al quadrato Allora Rimettiamo tutto in forma di frazione Quindi avremo un mezzo x alla terza y al quadrato tutto diviso 2 x al quadrato che sarà uguale Allora più diviso più farà più Poi avremo per quanto riguarda la parte numerica un mezzo per questo 2 ribaltato Quindi per di nuovo un mezzo Per la parte letterale invece avremo x alla 3 meno 2 e per quanto riguarda la y invece rimarrà così com'è cioè y al quadrato Tutto uguale quindi a più un mezzo per un mezzo fa un quarto x perché 3 meno 2 fa 1 per y al quadrato